Ciao, benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata sul mio canale. Io sono Fabio Marinoni, educatore, istruttore cinofilo in riabilitazione cognitivo-comportamentale e autore del libro Non basta amare, bisogna sapere come fare. Se ti piacciono i video che parlano di cani, di cinofilia, se ti piace il mio modo di trattare gli argomenti, metti un clic sulla campanellina qua sotto per rimanere sempre aggiornato e aggiornata sui miei video e non perdertene neanche uno. In questo video rispondo a una domanda che mi viene fatta abbastanza frequentemente. Spesso mi viene chiesto durante le mie dirette o anche clienti dal vivo, mi chiedono ma i cani vedono meglio di notte che di giorno? Oppure i cani ci vedono di notte, vedono meglio di noi? E in questo video ti spiego esattamente, in pochi minuti, perché non ci servono tantissimi minuti, e ti spiego esattamente come stanno le cose riguardante la vista di notte dei cani. Ti è mai capitato di fare una fotografia al tuo cane o magari essere in macchina di notte con i fari accesi e vedere un animale che attraversa la strada e quell'animale per un attimo rivolge lo sguardo verso di te? O ti è mai capitato di puntare di notte una pila, una torcia, verso il tuo cane o verso il tuo gatto o verso un animale? Se ti è già capitata una di queste situazioni avrai notato come gli occhi degli animali, dei cani, dei gatti, ma un po' di tutti i mammiferi, praticamente diventano due palle, due rotondini bianchi, riflettono tantissimo la luce della torcia o dei fari dell'auto. Probabilmente ti è già capitato di osservare questa cosa. Perché succede? Perché gli occhi dei cani o dei gatti risultano così durante la notte? A volte fanno anche un po' paura, sembrano tipo un film dell'orrore. In realtà questo succede perché gli occhi degli animali hanno una patina sopra la retina che praticamente riflette la luce. Questo chiaramente nella natura si è sviluppato probabilmente per permettere ai lupi e agli animali che vivevano in modo selvatico di utilizzare la notte per trovare rifugio, di utilizzare la notte per trovare posti che permettessero agli animali di stare al sicuro o magari anche di cacciare durante la notte. E questa patina, in poche parole, riflette quella poca luce che c'è di notte, che potrebbe essere la luce che riflette la luna, le stelle, o magari la luce di abitazioni che sono intorno all'ambiente. Quindi prendono questa poca luce che entra e la riflettono e praticamente questo permette ai cani o ai gatti di vederci meglio, di vedere meglio l'ambiente e potersi muovere per l'appunto. Chiaramente se siamo in un ambiente completamente al buio, senza neanche un filtro di luce, non vedono niente praticamente come noi, sono al buio completo. Mentre basta un pochettino di luce che filtra, appunto, riflessa dall'ambiente, dal cielo, eccetera, eccetera, per permettere ai cani di vedere meglio. Però non è che i cani vedono meglio di notte che di giorno, i cani vedono comunque meglio di giorno, come noi, però hanno questa capacità, hanno questo, diciamo così, tool negli occhi che permette ai cani durante il crepuscolo, durante la notte, di poter riflettere quella poca luce che c'è e vedere meglio. Vedono quindi sicuramente meglio di noi di notte, però non è vero che vedono meglio di notte, vedono comunque meglio di giorno, ma di notte si riescono a orientare molto bene grazie a questa capacità. Spero quindi di averti risposto a questa curiosità sugli occhi dei cani, sulla vista di notte. Mi raccomando, metti un clic, fai un clic sulla campanellina per venire aggiornato o giornata sui video del mio canale e ci vediamo al prossimo video.